ciao a tutti ragazzi insomma mei 72 oggi siamo in un nuovo video oggi siamo su triva crack heroes praticamente consiste non lo so allora lo scaricato ora è quindi iniziamo eroi non si nasce si diventa oppure può giocare fino a diventarlo scendi in campo non scudo che non c'entrappogliate la metà di altri metri distruggilo ora come scrivi il tuo campione sul campo loro sanno cosa fare più o meno mettiamola qua schierare i tuoi campioni di energia niente gratis al mondo domande sorpreso rispondi per fuori in modo con la barra di regia si riempie più velocemente se la disposta è giusta ovvio quale era glaciale nasce pesca fico vediamo un po razzo che numero da mano è x x vi i i i 28 mmmm qual è il loro figo dai ho vinto siiii ho tornato un eroe vinci per ottenere medaglie e scrigni oltre all'invidia dei tuoi versari grazie uno scrigno per te ok mito nome maggie 32 ok maschio no altro nome sia quanti anni hai cinquanta scrigno medaglie fico niente ok ehm guarda con le lac royale uguale lac royale allora questo potenziamo milan� gui gui genio chi ci aiorenza che è il vedo che più potenziata potenziamo roxanne potenzia potenzia ok giochiamo ancora da tan 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 ok training dai faccio contro giorgio patatina cos'è una tm di cina non lo so mettiamo transito a caso a caso squalique roxanne questo razzo forse è bello ok quale numero rappresenta la lettera l nei numeri romani 50 la cute intanto mandiamo questo difendere ma picco i cecengo gli da schiaffi di frustate ho vinto yes ho vinto ok uno scrigno aperto apriamolo spacchettamento di scrigno a caso cos'è sto coso cos'è un barbaro cos'è un gigante un barbaro cos'è vabbè lasciamo stare è uscito pure un whip cecengo campioni cos'è sto coso brenda oh ok bel nome così come si chiamano animali potenzio knick knack john ok ah è vero sono tre quindi knick knack john ok bel gioco intanto questo gioco in base di sviluppo potrebbe costruire patente vabbè lasciamo stare dipendenza patologica vai whip cecengo qua e brenda qua chi è l'attore principale del film salvatte il soldato ryan tadaaa e non lo so raga se non lo so quale di questi è il nome quale di questi è il nome di uno squalo squalo goblin è ovvio raga dai io lo sapevo già dai la faccio la buona come si chiama la parte più esterna del sole corona cavolo whip cecengo qui metto sto coso qui faccio incavolare nero poi non so neanche cosa fa però abbiamo vinto vinto brenda è fortissimo ok abbiamo vinto un altro scrino è facile fare scrino 20 monete un altro brenda un altro joker uno squalo e un whip cecengo oh questi whip cecengo sono pieni di whip cecengo 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 daddy sharky fico pure è bello sono di velo 2 hai preso su scena il ruolo dell'eroe si è salito di livello e rafforzato lo scuro di energia leggendario sii ok possiamo stare vorresti dire che io non ho monete ma va a cagare 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 un altro training in bucumba in una famiglia simpsons chi è il componenti più giovane Maggie è ovvio cosa significa l'espressione inglese clicking dei vorri ah eeeh tickling dei vorri scolta ah vabbè lasciamo stare dai tanto ho fatto giusto no come si chiamava la barca di Jacques Cucustiu calypso vediamo di qua dai brenda ti potenzio ti potenzio presto quando avevo le monete qual è tra queste si trova all'inizio della trama di una storia conclusione guardate brenda che kill e ha ucciso tutti bello bello bravo brenda bravo bravo mi sembra un bambino di un anno bravo un altro brenda ma perché basta prendi cos'è uscito uno stregone elettrico cos'è uscito cos'è dottor tox ico oh ok fico ok un altro training ok di nuovo Giorgio manca una patatina malata che è stato l'ultimo zar della russia imperiale nicola secondo prendiamo lo stregone elettrico qua gli squalini qua e cosa qua figo cos'è no come vediamo ucciso giovanna d'arco arrogo a caso ragazzi no mi distrugge male mi distrugge di nardo a caso ragazzi a caso ho perso ho perso ho perso ho perso ho perso non cavolo grandi gloria della caverna platone no si forse ho vinto forse no si ho vinto per forza dalle dr talks che gli manda tipo cose uno scrigno apriamolo e usce e e usce così a caso Wipshichengo complimenti il tuo allenamento è completo ora sei pronto per trionfare il mondo contro gli altri giocatori ben fatto il giovane eroe ma io non sono un eroe io sono malvagio e vi ucciderò tutti supernova ma perché che non va niente alla fine poi non so come funziona se la volete scaricare scaricatela perché è figo io mi sto divertendo con dei discerchi e con Wipshchenko ok potenziamo le Wipshchenko è francese guarda le Wipshchenko ok giocare training music di nuovo questo training Hakan Hakan ah è il campo training training auto allora qual è la città principale dell'isola d'elba non la so capoliveri a caso vediamo questo questo è il rocket la torre vai guarda di seguenti non è su alcuna banconota moneta o è su est grand cosa è ma io non conosco niente non ne so di queste cose che così il numero 10 dell'italiano europeo di calcio nel 2016 ma che cosa so io Tiago cosa perché come ho fatto vabbè Roland Roland Garros intanto mando gli squali perché sono fighi Stadis Swaringa no è sbagliato mandiamo questo qua Tox non mi uccidere se no ti uccido io di che nazionalità è Zard Belga a caso raga a caso a caso giuro a caso muori e vabbè Whip Rocket League questo io ho mandato Rocket qual è la professione di Joe Quimpine e i Simpson non lo so sindaco non saprai ah qual è la lingua peggiore in ucraina ucraino cavolo rega non sapevo niente però ho scoperto vai 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 esplodi esplodi bombage figlia delfi a caso raga ho perso che bello Kafka ma tanto avevo perso che non potevo fare niente voglio morire perché perdo sempre sono su training allora ragazzi penso che questo video possa terminare qui fatemi sapere se volete altri episodi ma allora vi dico solo una cosa non ho potuto fare il video prima perché ho avuto problemi di connessione perché mi sono trasferito a a mortala in lombardia quindi al nord quindi ciao ditemi se volete tutti i episodi di questo gioco io continuerò a giocarci non vi preoccupate manderò video a bomba oggi ciao quindi ragazzi questo video si conclude qui un saluto da mage 32 di iscrivetevi mettete pollicenzo e ciao 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 ciao